Capitolo undicesimo S'avvicinava il giorno in cui Lady Russell sarebbe tornata. Persino la data precisa era stata fissata e Anne, poiché doveva raggiungerla non appena si fosse sistemata, non vedeva l'ora di trasferirsi a Kellynch e cominciò a pensare a come la nuova sistemazione avrebbe influenzato il suo stato d'animo. Sarebbe stata nello stesso villaggio del capitano Wentworth, a mezzo miglio da lui, avrebbero dovuto frequentare la stessa chiesa e ci sarebbero stati rapporti tra le due famiglie. Questo era contro di lei, ma d'altro canto lui trascorreva così tanto tempo ad Upper Cross che, lasciando proprio quel luogo, poteva dire che stava allontanandosi da lui e non andandogli incontro. E nel complesso, riteneva che in questa importante questione fosse lei a guadagnarci, come certamente era caduto cambiando ambiente domestico, lasciando cioè la povera Mary, per Lady Russell si augurava di non incontrare mai il capitano Wentworth a Kellynch Hall. Quelle stanze erano state testimoni di altri incontri che troppo dolorosamente le sarebbero tornati davanti agli occhi, ma ancor più la preoccupava la possibilità che Lady Russell e il capitano Wentworth si incontrassero. Non si piacevano e una rinnovata conoscenza non avrebbe portato niente di positivo. Se poi Lady Russell li avesse rivisti insieme, avrebbe potuto pensare che lui era troppo sicuro di sé e che lei invece lo fosse troppo poco. Erano questi i suoi assilli quando pensava al trasferimento da Upper Cross, dove credeva di essere rimasta fin troppo a lungo. Il fatto di essere stata utile al piccolo Charles l'avrebbe sempre reso dolce il ricordo dei due mesi che lì aveva trascorso, ma il bambino stava ritrovando le forze molto rapidamente e non c'era più motivo perché rimanesse. La conclusione della sua visita, tuttavia, fu completamente diversa da come l'aveva immaginata. Il capitano Wentworth, che per due giorni non era venuto a Upper Cross, comparve di nuovo tra loro per giustificarsi e informarli della causa della sua assenza. Una lettera del suo amico, il capitano Harville, giunta al fine nelle sue mani, lo aveva informato che il capitano Harville si era stabilito per l'inverno a Lyme e che dunque, senza saperlo, si trovavano a venti miglia di distanza l'uno dall'altro. Il capitano Harville non aveva mai goduto di buona salute dopo la grave ferita che aveva subito due anni prima e il capitano Wentworth, ansioso di rivederlo, aveva deciso di recarsi immediatamente a Lyme. Era rimasto lì per ventiquattro ore. Fu perdonato, senza riserve, il suo senso dell'amicizia caldamente apprezzato. Riuscì a suscitare nei suoi amici un tale interesse nei confronti dell'amico e nei bei di intorno di Lyme da lui descritti con entusiasmo, che di conseguenza tutti espressero il desiderio di visitare Lyme e progettarono di andarvi quanto prima. I giovani erano tutti ansiosi di vedere Lyme. Il capitano Wentworth disse che vi sarebbe tornato anche lui. Vi stava solo 17 miglia da Upper Cross. Ben che fosse novembre, il tempo non era affatto cattivo e, in breve, Luisa, che era la più eccitata di tutti, avendo deciso senza esitazione di andarci, oltre al piacere di poter fare quello che le piaceva, essendo adesso sostenuta dall'idea che continuare decisi per la propria strada rappresentava un merito, riuscì a controbattere a tutte le proposte di suo padre e sua madre che avrebbero voluto rimandare la gita all'estate successiva. A Lyme sarebbero andati tutti quanti, Charles, Mary, Anne, Arietta, Louise e il capitano Wentworth. Il primo folle progetto prevedeva la partenza al mattino e il ritorno a sera inoltrata, ma Mr. Musgrove, per amore dei suoi cavalli, non ha consentì e così si giunse a considerare la cosa in maniera più razionale. Poiché una giornata di metà novembre non avrebbe lasciato tempo bastante ad andate e ritorno, che la natura dell'itinerario richiedeva, era necessario dunque trascorrervi la notte e tornare il giorno dopo, non prima dell'ora di cena. Questa fu stimata una ragionevole soluzione, ma nonostante si fossero ritrovati tutti quanti molto presto alla casa grande per la colazione e si fossero messi in marcia con la massima puntualità, le due vetture, la carrozza di Mr. Musgrove con le quattro signore, il calesse di Charles su cui viaggiava il capitano Wentworth, iniziarono a discendere l'erta collina, ai cui piedi si stende Lime e a imboccare l'ancor più erta strada principale del paese che mezzogiorno era passato ormai da un pezzo. Era assai evidente che sarebbe rimasto loro molto poco tempo per guardarsi un po' intorno prima che la luce e il tepore del giorno se ne andassero. Dopo aver trovato la sistemazione per la notte e ordinato la cena a una delle locande, la prima cosa da fare era indubbiamente andare subito al mare. La stagione era tuttavia troppo inoltrata per godere dei divertimenti e degli svaghi che Lime... Essendo un luogo di villeggiatura poteva loro offrire. Gli appartamenti erano tutti chiusi, i villeggianti se ne erano quasi tutti andati, era rimasta solo qualche famiglia del luogo. E poiché non c'è niente da ammirare negli edifici in sé, la particolare posizione della piccola cittadina, la strada principale che par quasi correre fino al mare, la passeggiata fino al Cobb che si dipana lungo la bella baia raccolta e che durante la stagione è animata da cabine e villeggianti, il Cobb stesso, le sue antiche e nuove meraviglie con la bellissima linea della scogliera che si estende a destra del paese. Sono queste le cose di cui l'occhio dello straniero va in cerca. E deve essere uno straniero ben strano, colui che non si accorge del fascino dei dintorni di Lime e non desidera conoscerli meglio. Le vedute che si offrono, Charmouth con i suoi colli e l'ampia campagna e ancor più la sua baia dolce e appartata, circondata da scogliere scure che i frammenti di rocce emergenti alle sabbie, rendono il miglior recesso per osservare il flusso della marea e per sedere in eterna contemplazione. I boschi, compositi dell'allegro villaggio di Uplheim e soprattutto pinni, con i suoi verdi abissi tra romantiche rocce, dove qua e là gli alberi dal folto fogliame, un tempo parte di fitte foreste e i feraci frutteti rivelano che devono essersi succedute moltissime generazioni da quando il primo parziale crollo della scogliera produsse l'attuale paesaggio, dal quale emergono panorami così splendidi e ameni, belli come le simili vedute della celeberrima isola di White e forse ancora più belli. Questi luoghi devono essere visitati e poi visitati ancora perché il fascino di Lime possa essere apprezzato. I turisti di Upper Cross passarono vicino agli appartamenti ormai deserti e melanconici e scendendo ancora presto si trovarono sulla spiaggia e fissando le acque indugiarono qualche attimo come dovrebbero fare tutti coloro che tornano a rivedere il mare e che sono degni di contemplarlo. Proseguirono verso il Cobb, anch'esso meta per scelta per il suo interesse e per via del capitano Wentworth poiché in una casetta vicino a un molo costruito chissà quando, abitavano gli Harville. Il capitano Wentworth entrò per salutare il suo amico e gli altri proseguirono la passeggiata. Si sarebbero ritrovati al Cobb. Non erano affatto stanchi di vagare e di ammirare e neppure Luisa sembrava essersi accorta che il capitano Wentworth li aveva lasciati da un bel po' di tempo, quando lo videro arrivare con altre tre persone, a loro ormai ben note grazie alle descrizioni del capitano Wentworth. Si trattava del capitano e di Mrs. Harville e di un certo capitano Benwick che abitava con loro. Qualche anno addietro il capitano Benwick era stato primo tenente sulla Laconia e la descrizione che di lui aveva fatto il capitano Wentworth quando era tornato da Lyme la prima volta, lodandolo sentitamente per essere un giovane eccellente, un ufficiale che gli aveva sempre tenuto in grande stima, descrizione di per sé sufficiente a suscitare l'ammirazione di chi lo ascoltava, era stata seguita da una breve storia della sua vita privata e ciò lo aveva reso estremamente interessante agli occhi di tutte le fanciulle. Era stato fidanzato con la sorella del capitano Harville, della quale ora piangeva la perdita. Avevano atteso per un paio d'anni fortuna e promozione. La fortuna era arrivata e la sua parte di prede era stata consistente, anche la promozione alla fine era arrivata. Ma Fanny Harville non visse abbastanza per saperlo. Era morta l'estate precedente mentre lui era in mare. Il capitano Wentworth riteneva impossibile per un uomo essere tanto legato a una donna più di quanto il povero Benwick era stato legato a Fanny Harville o essere più profondamente oppresso da quel tremendo cambiamento che aveva sconvolto la sua esistenza. Pensava inoltre che per carattere fosse particolarmente incline alla sofferenza poiché in lui convivevano sentimenti molto forti e modi tranquilli, seriosi e riservati. Un'innegabile predilezione per la lettura e le attività sedentarie. La storia era ancora più interessante perché l'amicizia tra lui e gli Harville pareva essere divenuta, se possibile, ancora più salda per via dell'evento che li aveva privati di ogni speranza di diventare parenti. Il capitano Benwick adesso viveva sempre con loro. Il capitano Harville aveva affittato per sei mesi la casa dove ora abitava poiché il suo gusto, la salute e le possibilità economiche gli imponevano una residenza economica e vicina al mare. Poi la magnificenza del paesaggio e la tranquillità di Lyme durante l'inverno erano adatte allo stato d'animo del capitano Benwick. La simpatia e la comprensione che tutti provavano nei confronti del capitano Benwick erano davvero grandi. Eppure, disse Anna tra sé mentre si incamminavano per andare incontro agli altri, e forse il suo cuore non soffre più del mio. Non credo che il suo futuro sia per sempre compromesso. È più giovane di me, più giovane di sentimenti, se non di età, più giovane perché è un uomo. Si riprenderà e sarà di nuovo felice con qualcun'altra. Si incontrarono e vennero fatte le presentazioni. Il capitano Harville era un uomo alto, bruno, con fattezze amabili e benevole. Era un po' zoppo e per via dei suoi forti lineamenti e della salute malferma pareva più vecchio del capitano Wentworth. Il capitano Benwick sembrava ed era il più giovane dei tre e rispetto agli altri due era un uomo di bassa statura. Aveva un bel volto e un'aria malinconica ed evitò di partecipare alla conversazione. Il capitano Harville, benché i suoi modi non eguagliassero quelli del capitano Wentworth, era un perfetto gentiluomo, semplice, cordiale e cortese. Mrs. Harville, forse un po' meno raffinata del marito, sembrava tuttavia possedere gli stessi buoni sentimenti e niente poteva essere più gradito del loro desiderio di considerare amici tutti i membri della compagnia solo perché si trattava di amici del capitano Wentworth o rivelava la loro gentilezza e ospitalità come le insistenze perché promettessero di cenare con loro. Che la cena fosse già stata ordinata alla locanda alla fine, benché malvolentieri, fu accettata come scusa, ma sembravano molto seccati che il capitano Wentworth avesse portato i suoi amici a Lyme senza considerare naturale che avrebbero dovuto cenare a casa loro. In tutto questo c'era così tanto attaccamento per il capitano Wentworth, c'era l'ammaliante fascinazione di un grado di ospitalità così raro, così diverso dal consueto stile dei formali inviti reciproci e dei pranzi ufficiali e sontuosi e Anne sentì che una maggiore familiarità con gli ufficiali fraterni amici di lui non li avrebbe certo giovato. Sarebbero stati tutti amici miei, fu il suo pensiero, e dovette lottare contro una forte inclinazione all'abbattimento. Lasciato il Cobb, andarono tutti a casa dei loro nuovi amici. Le stanze erano talmente piccole che solo chi in vita col cuore in mano poteva pensare potessero ospitare così tanta gente. Sull'istante Anne ne fu sorpresa, ma presto si perse nelle piacevoli sensazioni provocate dalla vista di tutti quegli ingegnosi sistemi e quei curiosi espedienti escogitati dal capitano Harville per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, per rimediare alle deficienze del mobilio di una casa in affitto e difendere porte e finestre dalle prossime tempeste invernali. La varietà dell'arredamento delle stanze, nelle quali gli oggetti di prima necessità forniti dal proprietario piuttosto rovinati, come di consueto contrastava con alcuni articoli costruiti con qualche rara specie di legno, lavorati finemente e con altre superlettili curiose e di valore provenienti da tutti i paesi lontani che il capitano Harville aveva visitato, diede ad Anne una sensazione di divertito piacere, ma non solo, dato che tutto era connesso alla sua professione, al frutto delle sue fatiche, all'effetto della sua influenza sulle sue abitudini, l'immagine di pace e di felicità domestica che quella casa proponeva la trasformava in qualcosa di più o forse di meno di un luogo gradevole. Al capitano Harville non piaceva leggere, ma aveva ideato un'eccellente sistemazione, costruendo deliziosi scaffali per una discreta collezione di volumi ben relegati di proprietà del capitano Benwick. La sua minorazione gli impediva di fare molto movimento, ma una mente ingegnosa e pratica pareva gli fornisse continui motivi per rimanere in casa occupato a lavorare. Disegnava, verniciava, costruiva, incollava, faceva giocattoli per i bambini, creava nuovi tipi di aghi per le reti e se non aveva più niente da fare si sedeva in un angolo della stanza a riparare la sua grande rete da pesca. Anne pensò di aver lasciato tanta felicità dietro di sé quando uscì da quella casa e Luisa, accanto alla quale stava camminando, esplose in frasi di ammirazione e compiacimento sul carattere degli uomini di mare, sul loro senso dell'amicizia, la loro fraterna solidarietà, l'apertura mentale, la rettitudine, asserendo di essere convinta che i marinai erano più validi e capaci d'amare di ogni altra categoria di uomini in Inghilterra e che solo loro meritavano di essere rispettati e amati. Tornarono alla locanda per vestirsi e cenare. Tutto rispondeva perfettamente alle loro aspettative e non c'era niente che non andasse, anche se i padroni della locanda si prodigarono in scuse affermando che si era ormai fuori stagione e che Lime era lontano dalle strade principali e che non si aspettava l'arrivo di una comitiva. Ormai Anne sentiva di poter sostenere la compagnia del capitano Wentworth più di quanto avesse potuto immaginare e ora sedere allo stesso tavolo con lui e lo scambio delle consuete cortesie, non superarono mai questo limite, era divenuto una cosa di pochissima importanza. Le notti erano troppo buie perché le signore potessero incontrarsi di nuovo prima del mattino seguente ma il capitano Harvey l'aveva promesso che sarebbe passato per una visita quella sera. Venne portando con sé l'amico, cosa davvero inaspettata, già che tutti erano d'accordo nel ritenere che il capitano Benwick si sentisse oppresso dalla presenza di così tanti estranei. Tuttavia era di nuovo con loro anche se il suo stato d'animo non sembrava davvero accordarsi con l'allegria generale della comitiva. Mentre i capitani Wentworth e Harville conducevano la conversazione da una parte della sala e rievocando il passato sciorinavano un aneddoto dopo l'altro per intrattenere gli amici, Anne si ritrovò seduta in un angolo piuttosto appartato col capitano Benwick e un magnanimo impulso dettato dalla sua natura gentile la spinse a cercare di conoscerlo di più. Era timido e incline all'astrazione ma la incoraggiante mitezza del volto e la gentilezza dei modi di lei fecero presto il loro effetto e Anne fu ben ripagata dello sforzo che aveva fatto per rompere il ghiaccio. Era evidente che fosse un giovane che amava la lettura, soprattutto la poesia e oltre alla convinzione di avergli dato almeno per una sera la possibilità di discutere di argomenti che di solito ai suoi consueti compagni probabilmente non interessavano aveva la speranza da segli utile dandogli qualche consiglio sulla necessità e il beneficio di lottare contro l'avvilimento, argomento che era affiorato nel corso della loro conversazione. Perché nonostante fosse timido non pareva riservato, sembrava invece che fosse felice perché i suoi sentimenti erano finalmente liberi di sfogarsi e avendo parlato di poesia, della ricchezza della poesia di quei giorni e avendo avuto un breve scambio di opinioni sui poeti più importanti, cercando di stabilire se Marmion fosse da preferirsi a The Lady of the Lake o come dovessero essere classificati Jaur the Bride of Abydos e in che modo dovesse essere pronunciato Jaur dimostrò di conoscere a fondo tutte le più dolci liriche dell'uno e tutte le appassionate descrizioni di disperata agonia dell'altro. Recitò con trepida partecipazione i vari versi che parlavano di un cuore infranto o di un'anima distrutta dall'infellicità e sembrò così ansioso di essere capito che Anne sperò che non leggesse esclusivamente poesia e disse che la poesia di rado viene apprezzata senza pericolo da chi sa appieno gustarla e che i forti sentimenti che potevano apprezzarla erano quegli stessi sentimenti che la assaporavano con parsimonia. Lo sguardo di lui non rivelava pena, sembrava invece che questa allusione alla sua situazione gli facesse piacere. Così, forte del diritto che le dava alla sua maturità intellettuale, osò raccomandargli di dedicare più tempo alla prosa nei suoi studi quotidiani e poiché le venne chiesto di fornire qualche indicazione particolare, menzionò le opere dei migliori moralisti, le migliori raccolte di lettere, le memorie di personaggi di merito e che molto avevano sofferto, che le vennero in mente in quel momento e riteneva potessero sollevare e fortificare lo spirito con nobilissimi precetti e più solidi esempi di sopportazione morale e religiosa. Il capitano Benwick ascoltò con molta attenzione e sembrò grato dell'implicito interesse dimostratogli e, sebbene scuotesse il capo e sospirasse, dimostrando di possedere poca fiducia nell'efficacia di qualsiasi libro su un dolore come il suo, Ann notò i titoli che lei gli consigliava e promise che se li sarebbe procurati li avrebbe letti. Quando la serata fu conclusa, Ann non poteva fare a meno di sorridere l'idea di essere venuta a Lyme per esortare alla pazienza e alla rassegnazione un giovane che mai aveva visto prima. Ne poteva fare a meno di temere, riflettendo più seriamente, che, come molti altri grandi moralisti e predicatori, era stata eloquente su un punto che la sua condotta non avrebbe certo avvalorato.